Ha visto questa donna, per caso? Lavorava per il suo ex marito. E ora è sparita. Che cosa vuol dire, è sparita? Il marito dice che non è rientrata a casa la stessa sera in cui lei è scesa dal treno a Dursley. Stavo solo, stavo solo. Lei conosce Megan Hypewell? No! Non l'ha mai vista? No, mai, almeno non credo. Non sarà perché era ubriaca? Solo per capire, ha detto che era al lavoro, venerdì. Si riferisce al suo lavoro nelle pubbliche relazioni? Certo. Da quel che so, lei è stata licenziata per via dei suoi problemi con l'alcol più di un anno fa.